No, niente, sono venuto a conoscenza delle dichiarazioni che ha fatto l'allenatore avversario e volevo solamente dire che siccome col mio nome a volte si gioca un po' troppo e si dicono parecchie cose, questa volta a fine primo tempo perché all'andata gli ho fatto anche i complimenti a lui, al suo direttore che li conosco molto bene essendo di Foggia quindi quello che dovevo dirgli ho detto a fine primo tempo e di certo non mi metto in campo a fare gesti verso altre persone quindi era una cosa con il mio direttore che mi aveva detto che oggi non sarei riuscito a raggiungere questi 15 gol al quindicesimo gol gli ho fatto quel gesto a lui, tant'è che lui poi è venuto in campo e mi ha fatto anche un altro gesto questo è, grazie, arrivederci